Hai notato delle differenze tra Italia e America? Mi sembra che i primi anticovinaio che hai aperto all'estero sono stati in America, giusto? New York. L'apertura di un anticovinaio, cioè tu avevi comunque paura che il format potesse non piacere? All'americano piace molto la schiacciata, i salumi eccetera, però magari è un bel salto andare fuori Italia. Anche a livello burocratico. Sì, esatto. È tutto, è una domanda che guarda cercando di far del live speech è veramente difficile perché andrebbe raccontato che io ho aperto durante il covid, che ho firmato durante il covid e che quindi ci siamo impegnati io e Giù durante il covid, quindi c'è arrivata una bastonata tra capo e collo, locale chiuso, non si poteva aprire, frontiere chiuse, io non potevo andare a vedere il mio primo negozio a New York, mi girava le scatole, guarda ci credo. Cioè, poi chiaramente ti parlo tutto dopo la conseguenza del, hai visto mandare aperto tutto e che lì per lì non te ne frega nemmeno nulla del negozio, però dopo quando tu capisci pian pianino che sta riaprendo le cose e tu dici c'è un negozio in America, si è pagato, andiamo a vederlo, non tu puoi. Cioè quindi ti dico io me lo sono un po' più sudato, ho pianto, ho patito, ce l'ho fatta di tutte e guarda a differenza di che pensa la gente e ora vede tutte le cose anche a New York, wow. Noi si è patito tanto per quel negozio, perché se si è aperta a New York non c'erano turisti, zero, perché le frontiere erano chiuse, se erano pochi, io che potevo andarci poco perché anche da qua non era facile. Poi era tutto nuovo, cioè era tutto nuovo per noi, tutto un format totalmente nuovo dall'altra parte del pianeta, pur essendo comunque antiovinario, cambiava tutto. Certo, cambia la cultura. Cioè quindi guarda è stato veramente difficile, quei mesi si è patito tanto gli giochi, si dice, madonna speriamo riparta, speriamo riparta, poi alla fine quando è ripartito veramente, allora andava bene davvero, se erano bravi, però no, diciamo sì, poi l'americano in sé per sé ama molto in Made in Italy, però non è scontato come si pensa, arriva l'italiano facile, no, c'è l'italiano, gli aggiustano i 3 miliardi, cioè sembra che sta più in Italia là che qui a volte, cioè perché io a volte vado a Firenze e mi parli di stare a New York. È vero, a Firenze in questo periodo non sembra di stare in Italia. Io a New York ho trovato il vicino di casa di Gavinana e tu dici, non ci si vede mai e ti trovo qua. Cioè quindi fessati, però è proprio il fatto che loro ti adorano, perché loro adorano il Made in Italy, però adorano quello vero, cioè quindi quando tu realmente li porti quello che è vero, questi vanno i pazzi. Cazzo vedranno il crudo, vedranno sta roba. No, i pazzi, infatti ora, eh, questo è, ora si va tranquilli, crociando sempre le dita.